Prezzi alle stelle, agricoltori più poveri, non toglieteci il futuro. Questo lo slogan della mobilitazione della CEA agricoltori italiani del Molise in piazza a Roma il prossimo 26 ottobre. Le motivazioni della mobilitazione sono stati spiegati nel corso di una conferenza stampa nella sede CEA Molise. In un silenzio assordante il sistema agricolo nazionale perde quote e nessuno sembra accorgersene. Ha indetto per il 26 una mobilitazione nazionale ai fini di far presente quello che è lo stato in cui versa tutto il comparto agricolo e tutte le aziende che ovviamente fanno capo allo stesso comparto. È un momento difficile per tutte le imprese produttive, per tutti i settori produttivi del comparto agricolo partendo da quelli che sono gli operatori delle produzioni zootecniche per poi finire a quelli che sono ovviamente le produzioni vitivinicole e le problematiche legate anche a quelli che sono le difficoltà in temi di fauna selvatica. Le nostre richieste sono un attenzionamento particolare a tutto il mondo agricolo. È una richiesta di intervento immediata, efficace ed efficiente su tutti i punti di vista considerando quelli che sono le reali difficoltà che tutte le imprese agricole stanno vivendo e considerando che man mano il passare dei giorni le aziende continuano a chiudere. In 5.000 a muoversi dal Molise.